Indulgenze e confessione durante il coronavirus, decreto della penitenzieria apostolica. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Le parole scritte da San Paolo alla Chiesa di Roma risuonano lungo l'intera storia della Chiesa e orientano il giudizio dei fedeli di fronte a ogni sofferenza, malattia e calamità. Il momento presente in cui versa l'intera umanità, minacciata da un morbo invisibile e insidioso, che ormai da tempo è entrato prepotentemente a far parte della vita di tutti, è scandito giorno dopo giorno da angosciose paure, nuove incertezze e soprattutto diffusa sofferenza fisica e morale. La Chiesa, sull'esempio del suo divino Maestro, ha avuto da sempre a cuore l'assistenza agli infermi, come indicato da San Giovanni Paolo II. Il valore della sofferenza umana è duplice. È sopranaturale perché si radica nel mistero divino della redenzione del mondo ed è, altresì, profondamente umano perché in esso l'uomo ritrova se stesso, la propria umanità, la propria dignità, la propria missione. Anche Papa Francesco, in questi ultimi giorni, ha manifestato la sua paterna vicinanza e ha rinnovato l'invito a pregare incessantemente per gli ammalati di coronavirus. Affinché tutti coloro che soffrono a causa del Covid-19, proprio nel mistero di questo patire, possano riscoprire la stessa sofferenza redenti Rece di Cristo. Questa penitenzieria apostolica, ex autoritate sumi pontificis, confidando nella parola di Cristo Signore e considerando con spirito di fede l'epidemia attualmente in corso, da vivere in chiave di conversione personale, concede il dono delle indulgenze a tenore del seguente dispositivo. Si concede l'indulgenza plenaria ai fedeli affetti da coronavirus, sottoposti a regime di quarantena per disposizione dell'autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie abitazioni, se, con l'animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa Messa, alla recita del Santo Rosario, alla pia pratica della Via Crucis, o ad altre forme di devozione, o se almeno reciterà nel credo il Padre Nostro e una pia invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli, con la volontà di adempiere le solite condizioni, confessione sacramentale, comunione ecloristica e preghiera secondo l'intenzione del Santo Padre, non appena sarà loro possibile. Gli operatori sanitari, i familiari e quanti, sull'esempio del buon samaritano, esponendosi al rischio di contagio, assistono i malati di coronavirus, secondo le parole del divino Redentore. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, otterranno il medesimo dono dell'indulgenza plenaria alle stesse condizioni. Questa penitenzieria apostolica, inoltre, concede volentieri alle medesime condizioni l'indulgenza plenaria in occasione dell'attuale epidemia mondiale, anche a quei fedeli che offrono la visita al Santissimo Sacramento o all'adorazione eucaristica o la lettura delle Sacre Scritture per almeno mezz'ora o la recita del Santo Rosario o il pio esercizio della Via Crucis o la recita della Coroncina della Divina Misericordia per implorare da Dio Onipotente la cessazione dell'epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la salvezza eterna di quanto il Signore ha chiamato a sé. La Chiesa prega perché si trovasse nell'impossibilità di ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi e del viatico, affidando alla misericordia divina tutti e ciascuno in forza della comunione dei Santi e concede al fedele l'indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia debitamente disposto e abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera. In questo caso la Chiesa suppliccia le tre solite condizioni richieste. Per il conseguimento di tale indulgenza era conmandabile l'uso del crocifisso o della croce. La Beata Sempre Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, salute degli infermi e aiuto dei cristiani, Avvocata nostra, voglia soccorrere l'umanità sofferente, rispingendo da noi il male di questa pandemia e ottenendoci ogni bene necessario la nostra salvezza e santificazione. Data in Roma dalla sede della penitenzieria apostolica il 19 marzo 2020, solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, patrono della Chiesa universale. Nota di basta bugie. Il cardinale Mauro Piacenza, nella sua carica di penitenziere maggiore, ha firmato lo stesso giorno del decreto sopra riportato anche una nota dal titolo Io sono con voi tutti i giorni, riguardante il sacramento della confessione nell'attuale situazione di pandemia. Ecco il testo completo pubblicato dal sito del Vaticano il 19 marzo 2020. La gravità delle attuali circostanze impone una riflessione sull'urgenza e la centralità del sacramento della riconciliazione, unitamente ad alcune necessarie precisazioni, sia per i fedeli laici, sia per i ministri chiamati a celebrare il sacramento. Anche in tempo di Covid-19 il sacramento della riconciliazione viene amministrato a norma del diritto canonico universale e secondo quanto disposto nell'ordo penitenzie. La confessione individuale rappresenta il modo ordinario per la celebrazione di questo sacramento, mentre la soluzione collettiva senza la previa confessione individuale non può essere impartita se non laddove ricorra l'imminente pericolo di morte, non bastando il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti. Oppure una grave necessità la cui considerazione spetta al Vescovo Diocesano tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della conferenza episcopale e ferma restando la necessità per la valida soluzione del votum sacramenti da parte del singolo penitente, vale a dire il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi che al momento non era possibile confessare. Questa penitenzieria apostolica ritiene che, soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico e fino a quando il fenomeno non rientrerà, ricorrono i casi di grave necessità, di cui al summenzionato canone 961 paragrafo 2 del codice diritto canonico. Ogni ulteriore specificazione è demandata dal diritto ai Vescovi Diocesani, tenuto sempre conto del supremo bene della salvezza delle anime. Qualora si presentasse la necessità improvvisa di impartire la soluzione sacramentale a più fedeli insieme, il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro il limite del possibile, il Vescovo Diocesano o, se non potesse, ad informarlo quanto prima. Nella presente emergenza pandemica aspetta pertanto al Vescovo Diocesano indicare a sacerdoti e penitenti le prudenti attenzioni da adottare nella celebrazione individuale della riconciliazione sacramentale, quali la celebrazione in luogo areato esterno al confessionale, l'adozione di una distanza conveniente, il ricorso a mascherine protettive, fermarestando l'assoluta attenzione alla salvaguardia del sigilio sacramentale e dalla necessaria discrezione. Inoltre, spetta sempre al Vescovo Diocesano determinare, nel territorio della propria circoscrizione ecclesiastica e relativamente a livello di contagio pandemico, i casi di grave necessità nei quali sia lecito impartire la soluzione collettiva, ad esempio all'ingresso dei reparti ospedalieri dove si trovano ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, adoperando nei limiti del possibile e con le opportune precauzioni i mezzi di amplificazione della voce perché la soluzione sia udita. Si valuti la necessità e l'opportunità di costruire laddove necessario in accordo con le autorità sanitarie, gruppi di cappellani ospedalieri straordinari, anche su base volontaria e nel rispetto delle norme di tutela dal contagio per garantire la necessaria assistenza spirituale ai malati e ai morenti. Laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere la soluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta proveniente dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa espressa da una sincera richiesta di perdono, quella che al momento il penitente è in grado di esprimere, è accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere appena possibile alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati anche mortali. Mai come in questo tempo la Chiesa sperimenta la forza della comunione dei santi, innalza il suo Signore crocifisso e risorto, voti e preghiere, in particolare il sacrificio della Santa Messa quotidianamente celebrato anche senza popolo dai sacerdoti. Come buona madre la Chiesa implora il Signore perché l'umanità sia liberata da un tale flagello, invocando l'intercessione della baiata Vergine Maria, madre di misericordia e salute degli infermi, e del suo sposo San Giuseppe sotto il cui patrocinio la Chiesa da sempre cammina nel mondo. Ci ottengono Maria Santissima e San Giuseppe abbondanti grazie di riconciliazione e di salvezza, in attento ascolto della parola del Signore che ripete oggi l'umanità fermatevi e sappiate che io sono Dio, io sono con voi tutti i giorni.